Da qualche settimana sono state registrate nuove truffe online caratterizzate dall'improvvisa apparizione sullo schermo di chi si trova a navigare in internet di una finestra riportante il logo di una forza di polizia, che facendo riferimento ad un presunto illecito utilizzo del computer da parte dell'utente lo avvisa dell'avvenuto blocco preventivo del computer, risolvibile solamente dopo il pagamento della somma di 100 euro, a seguito della quale l'utente dovrebbe ricevere un codice in grado di sbloccare la macchina e consentirne il ritorno alla navigazione. L'avviso nel precisare che il mancato pagamento della somma richiesta comporta la denuncia penale per i trasgressori fornisce dettagli per l'ipotetico sblocco del PC dopo il pagamento a mezza moneta elettronica. Si tratta dell'ennesimo tentativo di truffare gli utenti della rete che nulla a che fare ovviamente con l'ufficio di polizia, il cui logo è riportato sulla finestra in questione, che mai al mondo richiederebbe il pagamento di una somma di denaro ad alcun titolo tramite tale forma di comunicazione. In questo caso i pirati informatici, sfruttando l'apprezzione derivante dalla ricezione di un simile messaggio dalla forza di polizia falsamente rappresentata dal logo, intimoriscono l'utente e attribuendogli falsamente la navigazione su siti illegali. In realtà la situazione può essere risolta rimuovendo il malware che limita l'accesso al sistema operativo del computer, non dovendo assolutamente pagare nulla, anche se qualche volta è stato riscontrato che l'utente ingenuo è caduto nella trappola e ha deciso di pagare per ottenere lo sblocco del PC attraverso un codice che mai verrà fornito. Per meglio specificare la tipologia, si rappresenta che a causare il blocco del computer è un virus, che opera prevalentemente nel corso della navigazione web e che colpisce il sistema operativo sfruttando le vulnerabilità dello stesso, impedendo il normale utilizzo della macchina, senza però accedere a dati personali come password di accesso, dati anagrafici o bancari e simili. A Palermo, sin a questo momento, le denunce pervenute presso gli uffici della Polizia Postale, della Questura e delle altre forze dell'Ordine sono in tutto un paio di decine, ma si ritiene che a queste vadano aggiunte tutti gli utenti che pur avendo ricevuto l'avviso non denunciano per vergogna o semplicemente perché non ci cascano e fanno direttamente riparare il computer. Le indagini finalizzate ad individuare i responsabili sono già state avviate, ma l'invito agli utenti della rete è quello di dotarsi di un antivirus e di aggiornare regolarmente il sistema operativo, di navigare solo tramite la predisposizione di un account utente e non con diritti di amministrazione e soprattutto di non pagare nulla a nessuno. I carabinieri di Palermo, unitamente al personale della compagnia di Carini, hanno proceduto all'arresto di Filippo Orlando, palermitano, 26enne, con l'accusa di detenzione e fini di spaccio di sostanza stupefacente. Contestualmente hanno deferito e stato di libertà il padre per il medesimo reato. L'operazione rientra nell'ambito di un servizio alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti all'interno dello ZEN2, dove gli indagati gestivano un centro scommesso. In tale contesto, i militari hanno proceduto al controllo dell'esercizio commerciale, fortemente sospettato di alimentare una parallela attività di spaccio di sostanze stupefacenti ed è il domicilio dei due a Villa Grazia di Carini, al fine di verificare la presenza di stupefacenti. Mentre la perquisizione alla sala scommessa permetteva di rinvenire residui di sostanza stupefacente del tipo marijuana, il controllo domiciliare consentiva di trovare una fornitura di droga completa di materiale per il confezionamento come forbici, bustine, nastro adesivo e sostanza da taglio, probabilmente usata per la lavorazione di altro tipo di stupefacente, sapientemente occultata in una veranda utilizzata come rimessa degli attrezzi. Al termine dell'attività, Filippo Orlando veniva tratto un arresto e come disposto dall'autorità giudiziaria, sottoposto al rito direttissimo, al termine del quale, dopo la convalide, è stato condannato ad un anno e dieci mesi con la condizionale a 3.000 euro di multa e rimesso in libertà. Il padre invece, visto i minori elevati investigativi a suo carico, veniva deferito e stato di libertà. Noi abbiamo lasciato un messaggio proprio in questo posto e abbiamo lanciato un appello all'amministrazione e al sindaco Lobbiundo. Abbiamo scritto oltre 100 metri di rifiuti. Bene, va anche detto che nonostante i rifiuti sono ancora ammassati, nonostante il disagio continua, noi dobbiamo prendere atto che l'amministrazione in parte ha iniziato a ripulire e a bonificare questa zona. Bene, continueremo ad accendere i nostri riflettori sui disagi che a Partinico ci sono, nella speranza che l'amministrazione si adoperi per risolvere le criticità. Signore, il disagio continua. Comunque, credo che dopo il nostro messaggio e il nostro appello al sindaco qualcosa sta cambiando. stanno cominciando quantomeno a pulire. E la cosa importante è questa, anche perché qua ci abitano pure bambini piccoli, poi bruciano la spazzatura, la diossina è nell'aria. Se i bambini che noi facciamo tanto per respirare un po' d'aria pura, non respirano niente praticamente, respirano l'aria infetta. Da tanto tempo voi vi avete questo disagio? Sì, da quest'estate particolarmente, perché quest'estate avevano fatto un servizio che ogni due o tre giorni veniva un camion, si fermava e tutta la gente sapeva che doveva andare a buttare la spazzatura. Questo è durato quasi un mese forse. Dopo un mese forse non andava più bene e l'hanno tolto. Perciò la gente ora butta nuovamente qua tutto. Anche lei, lanci il suo appello all'amministrazione? Cosa debbo lanciare? Che noi abbiamo fatto esposti e siamo andati a Carabinieri, appunto perché questa è un'indecenza. Sei sedute e finalmente il consigliere Aghiello si è insediato nell'assiste comunale. Sì, ci sono volute appunto sei sedute. Due convocazioni del Consiglio Comunale, in prima e in seconda seduta e poi il rinvio al giorno successivo. Così è stato fatto il 21-22 dicembre, non ricordo. E così è stato fatto ieri sera il 31 dicembre. Finalmente, dopo la sesta volta, si è riuscito a fare la surra e quindi il sottoscritto oggi si può freggiare, oggi è del qualifica di assessore al Comune, anche quella di consigliere comunale. Possiamo dire grazie anche all'opposizione? Grazie anche all'opposizione. Certamente ieri sera l'opposizione ha avuto un atteggiamento più elastico rispetto alle volte precedenti, anche se devo ringraziare il consigliere Vito Giuliano che ha consentito con la sua presenza già di avere noi una maggioranza che era la maggioranza di dieci consiglieri comunali. Dal proposito devo fare un appunto ai consiglieri di maggioranza, eravamo noi nove, quindi mancavano sette, otto consiglieri e questo è un cruccio che certamente deve essere oggetto di valutazione successivamente perché non è possibile che in un consiglio comunale ci siano tutte queste assenze. Quindi questo sicuramente lo faremo nei prossimi giorni. L'opposizione, mentre le volte precedenti era uscito dall'aula non consentendo quindi che l'altra parte potesse effettuare questa surroga e su questo io ieri sera ho fatto un intervento ma l'intervento mio voleva essere mirato perché ho detto non si è mai verificato nella storia degli annali dei consigli comunali ai quali io ho fatto il riferimento che si verificasse un fatto di questo genere. Io posso anche considerarlo la prima volta perché la prima volta può essere un segnale politico che l'opposizione vuole dare alla maggioranza ma diciamo la seconda volta, la terza volta, la quarta volta non ha più senso e quindi magari sono stato attaccato dall'opposizione perché io ho fatto questa dichiarazione ma era una dichiarazione fatta in questo senso. Cioè la considerazione la prima volta va bene ma dopo di che, dopo che tu hai dato il segnale si poteva andare avanti soprattutto con i lavori del consiglio comunale che ci sono alcuni punti all'ordine del giorno molto importanti che dovevano essere oggetto di una considerazione ieri sera che poi purtroppo non è stato fatto. Qual è il gruppo consigliare di appartenenza? Il gruppo consigliare di appartenenza è quello dove sono stato candidato e risultavo il secondo non eletto che è il gruppo del PDL quindi io ieri sera ho fatto una dichiarazione in consiglio comunale che assieme al consigliere Pino Bonnì facciamo parte del gruppo del PDL. Al proposito devo anche dire una cosa nella precedente seduta dal consiglio comunale il presidente del consiglio all'inizio del consiglio ho letto una dichiarazione che era stata portata dai consiglieri di Totò Puleo e di Vito Italiano dove in questa dichiarazione avevano detto che Totò Puleo era il capogruppo del PDL e Vito Italiano era invece il vice capogruppo. Sappiamo tutti le note di questa nostra posizione io e Pino Bonnì facciamo parte di una maggioranza mentre purtroppo Vito Italiano e Totò Puleo fanno parte sono all'opposizione ma ambe due apparteniamo allo stesso partito allo stesso partito che è il PDL quindi noi rimaniamo all'interno del PDL con Pino Bonnì tant'è che lunedì mattina faremo una dichiarazione che manderemo al presidente del consiglio dove Pino Bonnì sarà il capogruppo ed io sarò il vice capogruppo di questo nostro gruppo. Consigliere Aiello quali le risultanze del consiglio di ieri sera? Secondo me ieri sera il sindaco ha fatto di tutto per dare di nuovo e continuare a dare una pessima immagine di quella che è la sua politica che ha fatto in questi cinque anni e di quella che è la sua maggioranza. Ieri sera di nuovo con lo stesso punto all'ordine del giorno per dare di nuovo possibilità al consiglio comunale di poter operare e quindi la surroga del consigliere russo che è andato ad insediarsi come ragioniere capo del comune di Partenico quindi queste cose dobbiamo pure evidenziare e quindi doveva subentrare Filippo Aiello ieri sera l'opposizione in modo molto tranquillo ha garantito con i propri numeri la possibilità che il consigliere Aiello si potesse insediare di contro la maggioranza erano 6-7 persone questa la dice lunga su quella che è la situazione drammatica di Partenico guidata da un sindaco che sicuramente fa tutto tranne che il bene di questa città ormai bisogna dirlo chiaro ma non perché siamo in campagna elettorale il disastro di Partenico è sotto gli occhi di tutti io faccio uno spassionato invito a tutti i cittadini di Partenico ad aprirsi gli occhi ed evitare ancora di portare avanti una politica pessima che ha portato avanti questo sindaco per 4 anni l'opposizione ha votato? l'opposizione ha garantito la presenza in aula non ha espresso alcun voto si è astenuta dalla votazione e quindi il consigliere Aiello è diventato a tutti i titoli consigliere fa parte del consiglio comune di Partenico io a due mesi dalle elezioni credo che questo sindaco forse non voglia fare più neanche i consigli comunali dimenticando i gravi problemi che va incontro questa città perché abbiamo un problema dei rifiuti abbiamo superato un'emergenza ma tra qualche giorno sicuramente ce ne sarà un'altra perché quello è un ato in liquidazione c'è una nuova norma che sta per essere adottata dalla regione Sicilia e quindi bisognerebbe capire pure come andare avanti aspettiamo pure una risposta da parte del sindaco per quanto riguarda la posizione che questo sindaco ha preso per quanto riguarda il passaggio verso Terra dei Fenici ci deve spiegare che cosa vuole andare a fare a Terra dei Fenici che è un ato in questo momento sotto inchiesta da parte della magistratura per infiltrazioni mafiose per voti di scambio e allora tutte queste cose ce le deve dire perché vuole andare verso lato Terra dei Fenici e non andarsi a costituire con comuni qua vicino che sono vicini a Partinico che hanno le stesse esigenze di gestione del territorio vogliamo sapere che cosa ne vuole fare del lato lato idrico che è in liquidazione pure quello che vuole riportare questo servizio all'interno della gestione del comune di Partinico Scusi, avete affrontato il punto relativo alla Tarso? No, perché la maggioranza non aveva nessun consigliere in aula erano soltanto a un certo punto tre consiglieri in aula quindi un consigliere di maggioranza ha chiesto la verifica del numero legale tre consiglieri più sette di opposizione non c'eravamo più e quindi non ci sono state le condizioni Ci troviamo al canile municipale del comune di Partinico circa un anno fa abbiamo parlato con l'assessore di questa struttura abbiamo fatto un servizio abbiamo sollecitato l'apertura di questo canile è passato un anno la struttura è sempre qua ma dei cani nemmeno l'ombra Questa è una struttura sicuramente da adibire ad uffici la struttura c'è ma di personale neppure l'ombra intanto qualche cane in questo posto lo ritroviamo Tra l'altro la legge prevede la tutela degli animali ci sono molti cani e randaggi quindi sollecitiamo e lanciamo l'appello ancora una volta con la speranza che ben presto questa struttura sarà utilizzabile dai cani Un impegno non mantenuto è proprio vero il detto che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare Scarsa qualità dei servizi inefficienze scarsa motivazione da parte dei burocrati mentalità vecchia incompetenza diffusa in una parola la pubblica amministrazione ha una performance ai minimi termini di questo si è parlato a Partinico al corso di formazione politica organizzato dalla Chiesa Madre ma come è possibile una inversione di tendenza? Sicuramente l'impegno che è richiesto a ciascuno sta dentro di sé quindi è un problema di consapevolezza dell'individuo sia a livello politico che a livello di cittadino questa è la grande sfida che oggi la Sicilia deve rendersi conto di dover affrontare se non si riparte dall'individuo non avremo possibilità non è questione di risorse finanziarie di risorse umane è questione di consapevolezza di coscienza civica direi e il corso che qui è stato oggi organizzato penso miri proprio a questo obiettivo infatti è stato un grande piacere incontrare questi giovani che insomma sembrano essere davvero di buone speranze Come motivare i componenti della macchina burocratica? Sicuramente attraverso l'attuazione della riforma Brunetta che ha in larga parte delineato la sfera di attribuzioni nuove è evidente che le resistenze sono molto grandi perché siamo abitati ad un meccanismo di retribuzione a pioggia non siamo abituati alla gestione di un reale merito per cui il cammino è abbastanza ampio certo i politici stanno cominciando a rendersi conto dei benefici che una macchina comunale più efficiente può dare determinano e via via stanno attivando dinamiche coerenti con questa normativa cogente Non sempre il progetto politico e la macchina burocratica parlano lo stesso linguaggio è vero? No, il problema della semplificazione del linguaggio è uno degli argomenti che abbiamo oggi trattato diceva Pascal di scusarsi per aver scritto una lettera molto lunga perché in realtà non aveva avuto il tempo di farla breve ecco oggi le pubbliche amministrazioni dovrebbero trovare il tempo di far breve e sintetico il senso della loro azione amministrativa così probabilmente il cittadino potrebbe maturare una rinnovata fiducia e contribuire al miglioramento della qualità dei servizi come ad esempio avviene in altri paesi in giro anche per l'Italia per cui un bolognese vedendo un tombino otturato trova opportuno chiamare il proprio comune sapendo che poi quel comune interverrà rapidamente ovviando al problema e qui non accade probabilmente è raro che un abitante di Partinico faccia una cosa del genere molto spesso l'ufficio reazione al pubblico è una scatola vuota sì è una scatola vuota formale necessaria per il rispetto di determinate norme ma assolutamente incapace di agire sulla macchina comunale determinando un effettivo miglioramento della qualità dei servizi ecco probabilmente il consiglio da dare agli amministratori è quello di guardare un po' più alla sostanza dei servizi pubblici piuttosto che come oggi si fa alla forma degli stessi giustizia è stata fatta dal tribunale di Partinico sul caso di Joel il bambino partinicese del quale quattro anni fa si sono interessate anche le croneche nazionali per essere entrato in coma dopo aver bevuto in una pizzeria da sporto della cittadina un bicchiere d'acqua risultata drogata le analisi sia sul liquido che sulle urine del piccolo avevano infatti confermato la presenza di un cocktail di droghe un misto di metadone e anfitamine il bambino dopo essere stato ricoverato in rianimazione presso l'ospedale dei bambini di Palermo si era ripreso potendo così ritornare a casa Joel comunque non ha riportato alcuna lesione fisica e sta bene adesso a conclusione di un processo iniziato alla fine del 2010 è arrivata la condanna per il gestore del locale Aldos Pizza di Leonardo Nobile il quale gestiva la pizzeria quest'ultimo imputato di lesioni colpose è stato condannato alla pena di 1300 euro di multa oltre al pagamento delle spese processuali quantificate in 1400 euro nonché al pagamento in favore della parte civile costituita liquidate in una somma di 2500 euro con la riserva di poter agire anche in sede civile il verdetto è del giudice di pace del tribunale di Partinico Salvatore Giuseppe Pitacuda soddisfazione per l'esito della sentenza esprime il difensore di fiducia dei genitori di Joel l'avvocato Claudio Rappa del foro di Palermo questa vicenda dicono i genitori del bambino Tony Caronna e Enza Maria D'Angelo ha cambiato per sempre la nostra vita sperimentare l'angoscia di poter perdere un figlio ci ha portato a consolidare l'amore che unisce la nostra famiglia ma rimane il dolore per quei casi tanto numerosi in cui la leggerezza e l'irresponsabilità hanno determinato sofferenze irrimediabili individuato a Palazzo Comitini nel corso di una conferenza di servizio convocata dal presidente Giovanni Avanti il percorso per risolvere la situazione dell'istituto alberghiero Danilo Dolci di Balestrate costretto a lasciare l'immobile dell'ex colonia marina non più disponibile per problemi alla struttura nell'immediato gli studenti si trasferiranno presso l'immobile di Partinico di proprietà di un privato che ha ospitato fino al 2005 il liceo scientifico Santi Savarino era questa una delle due offerte pervenute alla provincia in seguito all'avviso pubblico emanato per trovare altri immobili disponibili nella zona oltre all'offerta del proprietario dell'immobile di Partinico è pervenuta alla provincia anche la disponibilità del comune di Trappeto che ha proposto l'immobile usato fino a qualche anno fa per la scuola elementare e sul quale è previsto un intervento da un milione di euro finanziato con fondi Cipe per eliminare le infiltrazioni dalle coperture la soluzione nel breve periodo approvata nel corso della conferenza di servizio è quindi quella di impiegare con una locazione di otto mesi l'immobile di Partinico che potrà subito ospitare cento alunni per poi accogliere gli altri studenti dopo che il proprietario avrà realizzato i lavori di adeguamento alle normative antincendio la soluzione individuata invece nel medio periodo riguarda l'immobile che il comune di Trappeto ha intenzionato a cedere incomodato d'uso alla provincia ma che sarà utilizzabile solo dopo i lavori sulle coperture lo stesso comune di Trappeto metterà anche a disposizione della provincia un'area destinata ad edilizia scolastica dove potrà essere realizzata come soluzione definitiva la nuova scuola 8 milioni e 200 mila euro in arrivo dallo Stato scongiurano il dissesso del comune di Morreale l'ente che dovrà restituire la somma nell'arco di 10 anni è stato inserito fra i comuni che percepiranno dal governo nazionale un'anticipazione a valere sul fondo di rotazione previsto dal decreto salvaenti la notizia è stata resa nota dal sindaco di Morreale Filippo Di Matteo e dall'assessore al bilancio Giuseppe Lafiora al termine della seduta della commissione bilancio che si è svolta in municipio non appena saranno erogate le somme si procederà al pagamento dei fornitori di beni e servizi del comune che attendono da diverso tempo per mancanza per mancanza di liquidità grazie a questo intervento si potrà scondurare anche il pericolo di interruzione dei servizi ho ricevuto ha dichiarato l'assessore Lafiora proprio mentre eravamo riuniti in commissione una telefonata da parte dei funzionari del ministero dell'interno che ci dava una conferma che il nostro comune era stato inserito nel decreto che sarà emanato lunedì prossimo a favore dei comuni che hanno aderito alla procedura di riequilibrio pluriennale entro il 31 dicembre 2012 con questa anticipazione andremo a risolvere quello che è il principale problema del nostro ente ossia la carenza di cassa è il punto di partenza ha detto il sindaco Filippo Di Matteo per far decollare l'economia del nostro territorio poiché con il pagamento delle ditte fornitrici andremo a dare un forte impulso alle attività delle imprese che stanno vivendo già un periodo di grave difficoltà il destinatario del papello era Nicola Mancino a ribadire che l'elenco con le richieste della mafia allo Stato fosse l'ex ministro dell'interno Nicola Mancino è stato il pentito Giovanni Brusca interrogato a Re Bibbia nell'ambito dell'udienza preliminare sulla trattativa Stato-mafia Brusca e Mancino sono imputati assieme a politici boss ed ex ufficiali dell'arma il collaboratore è accusato di violenza o minaccia a corpo politico dello Stato l'ex ministro di falsa testimonianza Brusca ha datato la consegna del papello agli uffici del Rosso tra la strage di Capace e quella di Via D'Amelio dopo la cattura di Irrina ci venne il dubbio che a farlo arrestare non fosse stato solo di maggio ha detto Brusca il collaboratore ha riferito che Cosa Nostra dubitò che la cattura del padrino avvenuta il 15 gennaio del 93 fosse dovuta solo al pentimento di bandastere di maggio insomma i boss pensarono che l'ala più morbida dell'organizzazione mafiosa fosse intervenuta e avesse consegnato il boss di Corleone Rina Maestro nega di aver ritrovato la memoria su particolari mai svelati prima per salvarsi dall'indagine per riciclaggio in cui è stato coinvolto nel 2010 e definisce il boss Totò Rina il suo maestro d'arte il collaboratore di giustizia che nel 2010 venne accusato di avere occultato e reinvestito parte del suo tesoro sottratto agli inquirenti sostiene di essersi deciso a dire tutta la verità dopo aver incontrato i familiari di alcune vittime della mafia i rapporti tra Rina e Provenzano spesso erano di contrasto a causa dei rapporti che Provenzano intratteneva con l'ex sindaco mafioso di Palermo Vito Ciancimino Brusca ha specificato che Rina contestava Provenzano di farsi soggiogare da Ciancimino secondo le tesi dell'accusa Ciancimino sarebbe stato il tramite tra ufficiali del Rosso dei Carabinieri e Provenzano negli anni delle stragi mafiose Promuovere la musica blues a Partinico con questo obiettivo organizzato per domani al Teatro Lucia Gianni di Partinico l'iniziativa musicale Blues in Progress un concerto live soul e blues con Anna Sgroi e i Blue Sky la manifestazione è organizzata dalla Fidapa di Partinico dall'Associazione Cento per l'Arte e la Cultura in collaborazione con l'Associazione Culturale Aindartes Lo scopo dell'iniziativa che si svolgerà domani presso il Teatro Gianni alle ore 18 è quello di promuovere la musica blues a Partinico che è un'importante musica che ha tanti appassionati e che noi vogliamo promuovere nel nostro territorio l'evento è promosso dall'Associazione Cento per l'Arte e la Cultura insieme con Aindartes e insieme con la Fidapa quindi una serie di associazioni che si mettono insieme per promuovere eventi culturali il gruppo Anna Sgroi e Blue Sky farà un concerto avremo come ospiti anche Daria Biancardi e Soul Caravan che sono il gruppo che nel nostro territorio promuove da tempo la musica soul la musica nera e il blues avremo anche come ospite Francesco Campo che è il promotore responsabile del Brass Group di Alcamo promotore del Summertime Blues Festival che è uno dei più importanti festival che si svolgono in Sicilia nel campo del blues con artisti che vengono provenienti da tutto il mondo dagli Stati Uniti dal nord Europa quindi il nostro è un intento divulgativo un intento promozionale certamente vogliamo promuovere il gruppo Blue Sky che è un gruppo di ragazzi che da alcuni mesi si cimentano con questo nuovo filone artistico che è la musica blues hanno elaborato un ampio repertorio l'evento si chiama Blues in Progress perché ci stanno lavorando quindi è in costruzione con l'obiettivo poi di portare il blues all'interno dei nostri comuni e dei comuni del territorio cominciando da parte di Nico domenica domenica prossima quindi prevediamo che la gente venga ad ascoltare questi ragazzi perché il blues è la musica dell'anima è la musica del sentimento è la musica che ha tanti appassionati e che aspettano noi in questi giorni abbiamo parlato con tante persone invitandole e abbiamo trovato molto consenso perché la gente ha bisogno di novità ha bisogno di eventi culturali del nostro non è un semplice concerto ma è un evento culturale vero e proprio grazie a tutti